Questo giovane ragazzo, padre e suo figlio versano in uno stato di grave difficoltà. Nessuno li aiuta, tutti li ignorano. Dai una mano anche tu per far cessare questo scempio. Hanno torscorso una vita discorribando in borsa, speculando in future, impacchettando derivati con titoli tossici, accumulando capitali su capitali nei paradisi fiscali, vivendo sempre nel terrore di dover pagare una tangente per ammorbidire gli incaricati delle agenzie delle entrate. Una nuova sciagula si sta battendo sulle vittime di questi benefattori dell'onorata società. Agisci anche tu per trovare la barbita Swarovski Limited Edition 2010 per la loro Porsche Turbo RS3. Forse una mano non basta, dacci un reno o un polmone se non sei il fumatore. Ci occuperemo noi avendolo al mercato nero. bambà, piccolino, figlioretto. Bambà, piccolino, figlioretto. bambà, piccolino, figlioretto. Grazie a tutti.